Il rilancio dell'Alta Val di Cecina passa attraverso il protocollo firmato in Regione Toscana dall'assessore Vittorio Bugli insieme ai sindaci di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo. Un documento che prevede investimenti in vari settori come turismo, agroalimentare, geotermia, artigianato e miglioramenti dal punto di vista della viabilità e della sanità locale. L'obiettivo è quello di invertire delle tendenze che, specialmente in alcuni comuni o parti di essi, vi sono di spopolamento del territorio stesso. Alla firma dell'accordo erano presenti anche il presidente della Regione, Enrico Rossi, e il consigliere regionale, Antonio Mazzeo. Entrambi hanno contribuito alla stesura del protocollo per l'Alta Val di Cecina, un territorio in crisi occupazionale e in cui lo spopolamento è un problema concreto. Sì, questo protocollo mi convince perché getta le basi per una collaborazione importante e soprattutto recepisce la maggior parte delle istanze di quello che viene dal territorio. Alcuni investimenti, come quello sulla banda larga o quello sulla strada statale 439, sono già stati finanziati. I firmatari dovranno ora stabilire i finanziamenti per gli altri settori di intervento. I firmatari dovranno ora stabilire i finanziamenti per gli altri settori di intervento.